Il caro benzina continua ad incidere sulla situazione economica delle famiglie, costrette ad utilizzare la macchina solo per lo stretto necessario. Con questo governo che sta a benzina ne sta consumando tutti, perché prima con 10 euro poteva fare quello che voleva, ora con 10 euro arriva a Porta di Ponte e torna, giusto di questo non può fare. Purtroppo la macchina per bisogno, per lavoro e per qualche cosa necessaria, andare all'ospedale, andare a qualche parte, per questo serve la macchina. La macchina non serve più per andare a fare una passeggiata a San Leone, passarsi un po' di piacere, non lo può fare più. Io faccio l'autista, le spese sono tante. Quindi sta risentendo comunque? Sì, sì, sto sentendo molto, diciamo, molto aumentato, molto rispetto a Nordi è di meno, diciamo, di qualche 25 centesimi in meno rispetto alle Emilia Romagna, Lombardia, è molto di meno. Qua invece vedo che in Sicilia è molto più cara, diciamo. Nel lavoro c'è una resa molto di meno, perché c'è un po' spreco di carburante, è un'e che costa caro. Sono delle cose che influiscono nell'ingasso della giornata. Il problema purtroppo si deve usare, perché c'è bisogno, e noi siamo costretti a essere soffocati di queste caro di benzina, che già si parla che devono aumentare altri 5 centesimi. Grazie. Grazie.